Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo Scoprire come attirare l'amore con il Feng Shui Volete sapere come attrarre l'amore nella vostra vita con l'aiuto del Feng Shui? Sapete quali colori attraggono l'amore? Vi siete mai chiesti come attrarre l'amore con la legge di attrazione? In questo articolo troverete le risposte a queste domande E imparerete anche come eseguire un potente rituale di San Valentino per attirare l'amore nella vostra vita Questo giorno speciale, San Valentino, che celebra l'amore, ci aiuta anche a ricordare che l'amore È e sarà sempre presente nella nostra vita, e che è la forza più potente che esista Per questo è importante celebrare l'amore, in tutte le sue sfaccettature, l'amore della coppia L'amore della famiglia, l'amore universale e soprattutto l'amore per noi stessi L'amore è quella forza che ci spinge a realizzare molto più di quanto immaginiamo È quella luce che brilla di fronte alle tenebre, e che vi sussurra che tutto andrà bene Come ci aiuta il Feng Shui quando vogliamo attrarre l'amore? Quando vogliamo attrarre qualcosa nella nostra vita, le nostre case possono essere decisive Poiché in esse rappresentiamo le nostre convinzioni e i nostri desideri E questo avrà un grande impatto a livello subconscio quando si tratta di attrarre o materializzare i nostri obiettivi E quando si attiva l'area bagua dell'amore nel Feng Shui, ciò che mi viene chiesto più spesso è Cosa devo fare se l'area bagua dell'amore si trova in un bagno? Come posso migliorarla se si trova in cucina? O cosa succede se coincide con un'assenza? Nell'articolo San Valentino Break, time uguale 0,5 secondi barra consigli per attrarre l'amore Vi ho dato le risposte a tutte queste domande In cui vi ho anche mostrato come realizzare un semplice e potente altare dedicato all'amore Un'altra cosa che ci aiuterà a rimuovere i blocchi e ad attrarre l'amore nella nostra vita È la realizzazione di un rituale dedicato all'amore Potete eseguire questo rituale se volete attirare nella vostra vita un partner fisso O se volete rafforzare la relazione che avete già È perfetto da eseguire da soli, in coppia o in famiglia Perché i rituali funzionano? I rituali fanno parte della nostra storia, della nostra esistenza e, quindi, fanno già parte di noi Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare che quando vogliamo un cambiamento nella nostra vita È sempre essenziale svolgere un lavoro personale, ma anche un rituale ci aiuterà in questo processo E perché i rituali funzionano? I rituali sono un modo per connettersi con l'energia del cosmo e della terra Nella nostra mente, un rituale ci fa fermare e concentrare su ciò che vogliamo veramente E questo è già un grande passo Inoltre, stiamo impostando la nostra intenzione e la nostra energia, decretando ciò che vogliamo all'universo Quando vogliamo davvero attrarre qualcosa nella nostra vita, è importante aprire la mente e non escludere nulla Questo mi ricorda una famosa citazione che dice Gettate via la chiave che chiude le menti e aprite la mente che trova le chiavi Di cosa abbiamo bisogno per eseguire il rituale di San Valentino? Prendete nota, abbiamo bisogno di quanto segue Due candele Possono essere rossi o rosa, oppure uno per colore, uno rosa e, uno rosso Un vasetto o una bottiglia di vetro trasparente di queste dimensioni Due piccoli portacandele, come questi, ad esempio Per riempire la bottiglia o il barattolo di vetro, avremo bisogno di Riso, semi di girasole, bastoncini di cannella, rosmarino, lavanda e petali di rosa Avremo inoltre bisogno di Un foglio di carta e una penna per scrivere Un nastro rosso Un simbolo d'amore o di relazione, nel mio caso utilizzerò questi due cuori di quarzo rosa Una volta ottenuto tutto il materiale, vi mostrerò come eseguire questo rituale Per cominciare vi spiegherò cosa simboleggia ognuno di questi elementi che abbiamo scelto, e perché daranno forza a questo rituale I magici segreti del riso In molte tradizioni è consuetudine lanciare il riso ai matrimoni, il motivo è che il riso è stato collegato all'abbondanza e alla fertilità Il riso simboleggia anche la longevità, quindi rappresenterà un buon auspicio di relazione duratura Semi di girasole per attrarre nuove cose Useremo anche i semi di girasole perché rappresentano i semi, e i semi simboleggiano la nascita e la crescita di qualcosa di nuovo Inoltre, il girasole è associato alla gioia e alla passione Cannella per la passione E naturalmente, in un rituale d'amore non può mancare la cannella, che simboleggia l'energia del fuoco, che porterà passione alla coppia Rosmarino per la protezione Un altro ingrediente che utilizzeremo è il rosmarino, che di solito viene usato nei rituali perché rappresenta la protezione In questo rituale proteggerà la coppia, dall'invidia o dalle energie avverse e aiuterà anche a eliminare eventuali blocchi Lavanda per la guarigione Continuiamo con la lavanda, che oltre ad essere utilizzata nei rituali d'amore È anche considerata la pianta della guarigione, quindi ci aiuterà a sanare eventuali ferite emotive Petali di rosa per il romanticismo Un altro ingrediente molto importante sono i petali di rosa, poiché le rose sono tradizionalmente associate al romanticismo e all'amore Come riempire la bottiglia dell'amore Ora che abbiamo visto il significato di ogni ingrediente, vi spiego come riempire la bottiglia Lo faremo in quest'ordine Per prima cosa, versiamo una manciata di riso per formare una base Aggiungere quindi i semi di girasole Successivamente, prendere le stecche di cannella e sminuzzarle con le mani Una volta tritate le stecche di cannella, metterle nella bottiglia o nel barattolo Dopo la cannella, versare nella bottiglia il rosmarino tritato Che può essere quello usato per cucinare, è consigliabile che il rosmarino sia secco Successivamente, aggiungere con cura la lavanda Infine, aggiungete con cura i petali di rosa Non esiste una quantità esatta per ogni materiale L'importante è che siano rappresentati, e che formino strati diversi Mentre aggiungiamo ciascuno degli ingredienti, visualizziamo ciò che vogliamo attrarre In questo modo gli daremo la forza della nostra intenzione, e ogni volta che vedremo la bottiglia ce lo ricorderà Una volta riempita la bottiglia Questa bottiglia darà forza al rituale per ciò che contiene e rappresenterà l'apertura di strade, in questo caso, per l'amore e la coppia Come preparare le candele per il rituale Prima di posizionare le candele nei portacandele, le ungeremo con un po' di olio vegetale Consiglio in particolare l'olio di palo santo per sfruttare la sua energia detergente e purificante Li ungeremo con l'olio dallo stoppino alla base, mettendo tutta la nostra intenzione Una volta preparati tutti i materiali, assembleremo il rituale Come fare il rituale di San Valentino per attirare l'amore Per prima cosa, posizioniamo la bottiglia che abbiamo già riempito Davanti alla quale collocheremo le due candele rosse o rosa, potete anche usarne una di ogni colore Entrambi i colori sono legati all'amore, il rosso simboleggia un amore più passionale, e il rosa il romanticismo e la dolcezza Davanti alle due candele e al centro collocheremo il nostro simbolo d'amore o la coppia che desideriamo attrarre, ad esempio si consiglia di collocare due cuori di quarzo rosa Poi prenderemo carta e penna e scriveremo la seguente preghiera Dichiaro che il mio cuore è aperto al vero amore, ora l'amore scorre nella mia vita, do e ricevo amore Mi libero da tutte le ferite del passato, con la forza dell'amore, l'amore mi libera e mi guarisce ora e sempre, lascio andare le paure e i timori In modo che l'amore possa guidare il mio cammino Il vero amore si manifesta nella mia vita con la benedizione di Dio Così è, così è ed è fatto, grazie, grazie, grazie Poi accendiamo le candele È molto importante, quando si accendono le candele, concentrarsi sulla nostra intenzione di eseguire questo rituale E su ciò che vogliamo attrarre Una, volta accese le candele, recitiamo la preghiera ad alta voce Una volta recitata la preghiera Arrotoliamo il foglio che abbiamo scritto, in questo modo, e poi lo leghiamo con un nastro rosso Una volta arrotolato, lasceremo il foglio con la preghiera al centro del rituale, tra le due candele e la bottiglia E una cosa molto importante, e me consiglio sempre nei rituali con le candele È importante tenere d'occhio le candele perché si muove molta energia Se dovete uscire di casa, potete spegnere le candele con uno spegnicandela e riaccenderle al vostro ritorno La bottiglia la terremo come amuleto dell'amore e la lasceremo custodita nell'area bagua dell'amore Dove agirà come attivatore, contenendo l'energia e l'intenzione di questo potente rituale Anche i cuori di quarzo rosa, o qualsiasi cosa abbiate usato nel rituale come simbolo d'amore Li conserveremo nell'area bagua dell'amore Se quello che avete usato è di piccole dimensioni Potete portarlo con voi come talismano per attirare l'amore I risultati vi sorprenderanno Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato Vi chiedo di aiutarmi con un like e se vi piacciono i miei contenuti non dimenticate di iscrivervi E fatemi sapere se avete domande E fatemi sapere